Il Potenza batte la frattese in rimonte e da lungo in vetta al torneo di Serie D grazie al contemporaneo stop casalingo della Cavese. La doppietta di Siclari e del gol di Guaita rimontano l'iniziale vantaggio di Poziello per la squadra di Maschio giunta al Viviani senza timori reverenziali. La squadra di Ranio non sente il peso dell'assenza di Carlos Franza in panchina ma parte nel peggior modo possibile. Cassandro al diciannovesimo lancia a lungo per Poziello errore della difesa di casa e lo stesso attaccante della frattese vince un rimpallo e batte Brezza. La replica del Potenza tuttavia arriva immediata neanche un giro di lancette e Siclari viene spintonato in aria con la massima punizione assegnata dal direttore di gara. Lo stesso attaccante numero 11 Potentino batte Pardo e rimette tutto subito in parità. La frattese tuttavia tiene bene il campo nella prima frazione di gioco soffrendo le scorribande dello stesso Siclari ma al 44esimo una bella azione manovrata dai padroni di casa imbastita da Guadaluppi e rifinita da disenso porta al tiro vincente dal limite Guaita abile a superare Pardo e ad ammettere decisamente in discesa l'incontro. E ad inizio ripresa la chiude definitivamente sempre Siclari che dopo soli 5 minuti di gioco riceve un perfetto cross di panico da sinistra e di testa batte per la terza volta nel match l'estremo difensore ospite. Il resto è pura accademia per gli uomini di ragno che gestiscono con sicurezza e tranquillità il risultato senza soffrire praticamente mai. Standing ovation servita al protagonista del match Siclari praticamente allo scadere con l'esordio per Mistretta e Maglia Rosso Blu. Il 3-1 finale vale il più 7 del potenza sulla Cavese e domenica scontro al vertice Big Match contro l'audace Cirignola.